video in full hd con htc one mini proviamo a fare un panno veloce andiamo ora verso un cambio di luce andiamo sotto la tenda vediamo come si comporta direi che sembra comportarsi in maniera abbastanza buona proviamo avvicinarci vediamo come va con l'autofocus come vedete siamo in fase di sole pieno non è facilissimo mettere a fuoco proviamo magari qualcosa in ombra per vedere come si comporta dobbiamo centrare col dito ok centrando si riesce a migliorare la messa a fuoco ok poi sappiamo che c'è slow motion ed altre cose però vabbè